Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi spiegherò come scaricare le canzoni gratis. Dovete scrivere una cosa su Google. Andate su Google e scrivete questo. Guardate, lo scrivo pure qua. Tre. Questo scrivete che sto scrivendo io. Scrivete questo. Aspettate che mi ricarica. Ok, ragazzi, sono andato. Ho fatto. E ora andiamo. Scrivete tipo Sfera e Basta. Ecco, scrivete Sfera e Basta. Ovi carica. E potete scaricare quelle canzoni che volete. Potete mettere questo. MP3 online. Ragazzi. E mo vi scarica la musica come me le sta scaricando a me. E poi potete scaricare ovunque canzone volete. Quale volete. Tutte potete scaricare. Calypso, tutte. Vi faccio vedere pure Calypso che me la scarica. Quando vi fa qua, andate, uscite. Ecco. E vi scarica pure Calypso. Tutto vi scarica. Però dovete aspettare un pochino. Ecco, adesso mi sono scaricate. E adesso andiamo, usciamo fuori. Adesso guardate su, andate, su Play Music, su Play Music, Do Line, le canzoni che avete scaricate. E vedi, vi fa vedere tutte le canzoni. Tipo, clicco qua. Però tutte ce le avete poi. Ragazzi. Tutte su tutte. Ce l'avete tutte. Vi ho detto tutto. Ciao ragazzi.